Prenderanno il via lunedì 18 gennaio i lavori di realizzazione di una rotatoria sull'ex strada statale 267 tra località Marrota e la via del mare nei pressi del presidio ospedaliero di Agropoli. Si tratta di un'arteria che registra quotidianamente un notevole numero di veicoli di passaggio perché di collegamento con le principali strade cittadini e a poca distanza dallo svincolo Agropoli Sud. L'intervento messo in campo dall'amministrazione Coppola nasce allo scopo di facilitare l'inserimento sulla viabilità principale dei mezzi provenienti da e verso il centro della città, attualmente caratterizzata da un incrocio canalizzato a elevato grado di pericolosità per la scarsa visibilità, le ridotte dimensioni della carreggiata e la promiscua direttiva di traffico di ingresso uscita, unita ad un traffico veicolare sostenuto anche dai mezzi pesanti diretti verso l'area portuale e il centro cittadino. Tra località Marrota e la via del mare, afferma il sindaco Adamo Coppola, andiamo a realizzare una rotatoria che sarà di notevole importanza per regolamentare la circolazione veicolare laddove fino ad oggi c'è stato il caos. Una zona dove confluiscono numerosi veicoli provenienti da varie direzioni e tale confusione in passato ha portato a causare incidenti. Con la predisposizione dell'infrastruttura mettiamo ordine e diamo sicurezza all'intera area molto trafficata.